Ben trovati, ben trovati di nuovo in diretta, ore 13 per l'approfondimento che precede il telegiornale di Telequattro e lo facciamo insieme a Lorenzo Tamaro, segretario del sindacato autonomo di Polizia di Trieste, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Con lei abbiamo avuto occasione di parlare anche recentemente su, vabbè eravamo partiti dalla classifica del Sole 24 Ore che piazzava Trieste al quindicesimo posto per l'aumento della criminalità, criminalità che ovviamente per quanto riguarda le denunce e sappiamo che il triestino è sovente a denunciare quello che succede, però parliamo anche di reati che poi si procede d'ufficio. Ecco, lei è stato molto chiaro nel dire che voi da un po' di tempo del SAP lanciate degli appelli a quello che servirebbe per migliorare le condizioni anche della Polizia, dell'organico, dell'armamento, dei mezzi a disposizione, quel consiglio straordinario nel 2015 in Comune di Trieste erano, insomma diciamo che viene fuori un po' quello che voi state raccontando da tempo. Diciamo che sicuramente il quindicesimo posto non è una cosa che fa piacere, anche se devo dire che le statistiche a me non sono mai piaciute, quindi quello che è sotto gli occhi di tutti però è secondo me un po' bisogna anche cambiare un po' anche la mentalità e la questione su questa sicurezza percepita, spesso si sente parlare di questa sicurezza percepita. Il quindicesimo posto secondo me non è al di là del quindicesimo posto, è una cosa che dalla cittadinanza, questa oltre che percepita è vissuta ormai dalla città, la città sicuramente è cambiata rispetto a quello che era il passato, ma è cambiata come lo sono cambiate anche le altre città della regione, voglio ricordare in particolare Udine, che insomma basta arrivare nella zona della stazione e si vede cosa c'è, ma tutte le altre province della regione e anche le altre province d'Italia, quindi non è solo un peggioramento dal punto di vista della sicurezza di una città come Trieste, ma è proprio un peggioramento che va sullo stesso percorso per tutte le città d'Italia. Una cosa che noi appunto avevamo ampiamente purtroppo preventivato, lo diciamo da parecchi anni perché ci rendevamo conto già una decina di anni fa che l'apparato sicurezza e quindi tutto il nostro comparto sicurezza era in forte affanno per una questione di quello che sarebbero stati gli organici, ad esempio, e noi già più di dieci anni fa denunciavamo che quel blocco delle assunzioni, quel turnover che non c'era avrebbe causato dei gravi problemi. Dopodiché, oltre queste denunce, c'era anche il discorso che la società sta cambiando. Certo. Sta cambiando, c'è una forte immigrazione, come abbiamo visto, che arriva da terra, nella ruta balcanica, da mare e queste immigrazioni producono sinceramente anche dei problemi dal punto di vista della sicurezza perché, non lo dico io, ma lo dicono chiaramente le statistiche e la maggior parte dei reati vengono commessi proprio da immigrati stranieri e quindi le carceri sono ampiamente popolate da stranieri e quindi c'è un problema che è legato anche all'immigrazione e alla cosiddetta dopo integrazione. Sintetizzando un po' i vostri comunicati, è urgente trovare una soluzione per l'ufficio immigrazione, quindi anche per facilitare la parte burocratica della polizia stessa, anche polizia di frontiera. Trieste insicura è ora di mettere da parte i falsi buonismi, un altro comunicato che è uscito proprio in questo settembre, pochi giorni fa. Tamaro, quindi partendo da quello che Pena lei ha detto e quello che voi giustamente state mandando anche in giro a colpi di comunicato, comunque analizzando la situazione, analizzerei anche le parole di Frezza, il procuratore capo facente funzioni della procura di Trieste perché lui disse ci siamo accorti che questo tipo di criminalità è anche difficilmente governabile perché c'è una cultura evidentemente diversa dalla nostra, dove c'è una cultura della vendetta, di sapori tra stranieri che nascono nei paesi di origine e poi reati che vengono consumati tra di loro in loco qua a Trieste, persone che vedono conoscenti arrestati ma non per questo funge da deterrente l'azione della polizia e loro continuano a reiterare il reato. Assolutamente sì, quello che un po' si diceva già all'epoca, la sicurezza, la certezza dell'impunità, la certezza che la pena non verrà scontata oppure verrà scontata fra molti anni e quindi soprattutto lo straniero non capisce che a un'azione illegale ci deve essere un'azione anche dal punto di vista della giustizia, proprio questo manca, i falsi buonismi, c'è il fatto a cui ci riferiamo, il fatto che spesso si cerca a tutti i costi la giustificazione del perché uno ha commesso un reato e quindi si giustifica la commissione del reato, invece io credo sia molto più corretto che si condanni la persona per quello che ha commesso, dopodiché si farà una valutazione del perché accadono certe cose e si cercherà di correggere questa persona nei suoi comportamenti però deve scontare una pena perché se no passa il messaggio che alla fine si va a tutelare sicuramente chi delinque e non si tutela invece la brava gente che ha tutto il diritto di vivere in maniera in pace e in civiltà. Le forze dell'ordine sono in difficoltà nel ottemperare a tutti i loro compiti e doveri nella provincia, cioè come si esplica questa difficoltà tra carenze di organico e non so a volte sembra anche che sia difficile magari stare dietro a tutto, non so come dire. Sicuramente lo vediamo, il cittadino chiede una presenza ormai in ogni dove, quindi tutto ciò non è possibile, non sarebbe neanche giusto, io credo. Malgrado ciò c'è una forte presenza di forze dell'ordine, di polizia anche su tutta la città, grazie anche però alle aggregazioni che vengono da fuori, perché noi abbiamo reparti di prevenzione e crimine che sono continuamente aggregati, c'è reparto mobile sempre aggregato, c'è comunque l'impegno e l'aiuto di strade sicure da parte dei militari, quindi ci sono forze in campo proprio perché quelle, fra virgolette, territoriali non sarebbero sufficienti a poter stare dietro a tutto. È chiaro che c'è anche un problema, poi dopo c'è un rinforzo anche per quanto riguarda il discorso dei confini, per quanto riguarda la sospensione Schengen, questi rinforzi che arrivano da fuori sicuramente però creano un problema alle altre province, perché se prestano dei poliziotti a Trieste è chiaro che hanno delle difficoltà magari nelle province di provenienza, ecco perché dicevo che è un problema di Trieste ma è un problema anche delle altre città, la carenza organico non è una carenza organico pattita solo a Trieste ma in tutto il resto d'Italia, quindi anche prestare degli agenti di una città all'altra comincia oggi ad essere un problema. Peraltro parlando di controllo delle frontiere, notizia dell'altro giorno, 11 passeur arrestati dalla polizia nell'ultimo mese e tra chi trasportavano i passeur, uomini, donne e bambini, insomma anche stipati nei van per favoriggiamento dell'immigrazione clandestina. Anche lì vediamo che c'è un'azione di polizia che è sempre costante, c'è sempre un grande impegno malgrado le difficoltà, ci sono i risultati perché poi alla fine se dobbiamo dirla tutta ci sono i risultati perché c'è stato un notevole aumento di arresti per quanto riguarda i passeur, per quanto riguarda l'immigrazione clandestina, sicuramente ci sono meno ingressi rispetto a un tempo, quindi la deterenza della chiusura c'è perché è innegabile, lo dicono i numeri, c'è anche la soluzione di tutte le risse che noi vediamo che sono teatro nelle nostre piazze, bene o male ci sono sempre gli identificati, ci sono gli arrestati e quindi voglio dire le forze dell'ordine comunque riescono a mettere a segno quello che sono i loro obiettivi e forse quello che manca e manca il dopo, cioè far comprendere alle persone che delinquono, che ha un reato, ha un'azione illegale deve sicuramente seguire una reazione, una pena. Abbiamo ancora 5 minuti, a questo punto parlerei anche della questione Meran, altro caso in cui siete usciti, l'assassino dei poliziotti Rotta e De Menego, inopportuno e irresponsabile la possibilità di trasferire Meran a Trieste, si è parlato poi da un'altra visina. Sì, io credo sia del tutto inopportuno per Trieste, una ferita ancora aperta, una sentenza quella che noi abbiamo sempre giudicato insomma irricevibile e credo che sia una sentenza che non sia stata compresa e digerita nemmeno dalla cittadinanza. Ricordo che in quell'ambito tutta un'intera città si strinse attorno alla questura, ai colleghi, ai familiari delle vittime, un fatto veramente, fra l'altro fra pochi giorni sarà il quinto anniversario di questa tragedia. Sinceramente pensare di portarlo qui a Trieste credo sia un ulteriore colpo contro un po' la sensibilità anche delle persone, oltre che anche dei stessi operatori di polizie insomma che operano su questo territorio e che hanno lavorato a fianco di questi ragazzi insomma. E anche in questo caso vediamo che magari per tutelare, per venire più incontro a delle eventuali esigenze del responsabile di questo duplice omicidio non si tiene conto magari invece di quello che può essere anche tutta una questione psicologica che è ruotato non solo all'ambiente lavorativo ma anche proprio di un'intera città. Sì, poi ci sono, abbiamo parlato anche prima parlando di criminalità, ci sono anche tanti episodi di micro criminalità che vedono protagonisti giovanissimi anche lì. Certo, ma anche lì io credo sia un fattore culturale, come deve essere un fattore culturale anche avere un maggiore rispetto per chi indossa una divisa. Su questo io credo sia importante quello che si sta facendo in questi giorni anche col decretto legge sicurezza. Noi auspichiamo, siamo già contenti che sia passata la Camera, sperichiamo che venga approvato il più presto, dove reati per esempio come la resistenza e la violenza pubblico ufficiale finalmente saranno di nuovo presi in considerazione, verranno spette le pene e questo è un segnale che si dà è proprio perché bisogna anche cambiare la cultura delle persone, l'approccio che deve essere diverso. Mi aiuto anche con i comunicati, la possibilità di avere la bodycam delle telecam, una sicurezza sia per gli agenti che per le persone che hanno di fronte. Esatto, noi non vogliamo sicuramente tutte le, come si dice, che vanno solo a nostro favore, vogliamo le tutele nei confronti di tutti, vogliamo la trasparenza di quelle che sono le nostre azioni e soprattutto però vogliamo lavorare in tranquillità e avere il rispetto che un ruolo come quello di un pubblico ufficiale o che riveste un ruolo di pubblico ufficiale deve avere. Era una vostra battaglia tra l'altro? Era una nostra battaglia, nel 2013 noi anche qua a Trieste grazie anche a dei sponsor diciamo riuscimo a promuovere la battaglia delle spypen, quotidiane spypen che era una delle penne che avevano delle telecamere proprio per riuscire un domani a far capire quello che era l'utilità di poter riprendere appunto le azioni di pulizia e arrivare a quello che oggi sono le bodycam e che finalmente dovremmo essere dotati. Va bene quindi insomma ci sarà modo anche di tornare come sempre su questi argomenti grazie al segretario del SAP Lorenzo Tamaro per essere stato con noi e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro a voi. Grazie, grazie per averci seguito in questo approfondimento sulla sicurezza su Tele4 alle 13, adesso piccolo break pubblicitario, la pubblicità poi il telegiornale delle 13 eventi con cronaca, notizie cittadine raccolte nell'arco della mattinata e non solo, anche notizie dalla provincia di Gorizia. Vi saluto ma vi aspetto fra pochi minuti per il Tg Meridiano di Tele4, fra poco. Ben trovati, ben trovati al telegiornale Meridiano di Tele4 che parte con la cronaca tentata rapina in casa ad Aquilinia, i topi d'appartamento, una coppia con il volto travisato da passamontagna, hanno avuto una colluttazione con la padrona di casa nella propria camera da letto, poi i malviventi sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce, indagano però i carabinieri. Marco Stabile. La padrona di casa si è trovata faccia a faccia con due topi d'appartamento in casa propria, in camera da letto, qui in un'abitazione di Aquilinia, nella notte fra mercoledì e giovedì. La coppia di malviventi si è introdotta nell'appartamento al primo piano dopo aver forzato una porta finestra, poi una volta all'interno hanno rovistato dappertutto in cerca di contanti o gioielli in oro. La coppia, con i volti travisati da un passamontagna, è entrata in camera da letto dove riposava la donna che è stata poi svegliata dai rumori. Ha avuto una breve ma purtroppo intensa colluttazione con uno dei due, i quali poi sono fuggiti senza causare per fortuna ferite alla donna che però è rimasta sotto shock. Fortunatamente nel parapiglia, da mani addosso, non è stato coinvolto l'anziano padre della donna che vive con lei. Sul posto, per indagini e rilievi del caso, i carabinieri del nucleo di via dei Tomins che, insieme ai colleghi del comando provinciale, stanno passando al vaglio i filmati delle telecamere di sorveglianza piazzate in zona e stanno raccogliendo testimonianze di altre persone che potrebbero aver visto qualcosa. Al momento non c'è traccia dei due ladri in fuga ma cresce la preoccupazione dei residenti di Aquilini, a frazione di Muggia, per il rischio di trovarsi queste persone di casa, di notte, all'improvviso, magari proprio in camera da letto, come nel caso della signora e magari di venire con loro a contatto con una colluttazione che anche in questo caso avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori. Ora parliamo del maltempo, ci spostiamo in quel dissagrado, cresce la preoccupazione per la piena del fiume Isonzo, ci colleghiamo con il nostro Omar Costantini che si trova a Sagrado, sentiamo. Sì, grazie per la linea, siete collegati in diretta con Sagrado, siamo all'altezza tra il ponte sulla regionale 305 e la diga foranea che smista poi verso il canale dei dottori. Siamo a Sagrado, fiume Isonzo, questa è la portata, chiaramente in Slovenia sono state riaperte le dighe, in particolare quella di Salcano, sta piovendo a dirotto nell'alta valle del Isonzo e come potete vedere insomma il fiume sta scorrendo verso la sua focce con una portata veramente eccezionale. Va detto che al momento non ho segnalazioni per quanto riguarda questa zona di eventuali interventi da parte sia dei vigili del fuoco sia della protezione civile per diciamo così allagamenti. Il fiume sta scendendo velocemente, la portata ripetiamo è veramente eccezionale, però quello che conta è che al momento insomma tutto rimane negli agili. Per quanto riguarda gli altri corsi d'acqua, va segnalato e faccio un break sul Friuli a Mersino, frazione di Pulfero, c'è stato uno sbottamento che ha chiuso, interrotto una parte della sede stradale, in questo momento stanno controllando sia il sindaco sia la protezione civile il da farsi per poter riaprire l'arteria nel più breve tempo possibile. Questa situazione Fiume Isonzo ripetiamo a sagrado, portata eccezionale, ma quello che conta al momento tutto nella normalità. A voi la linea. Questa quindi è la situazione maltempo, noi torniamo invece a Trieste, torniamo a parlare della cabinovia, il comitato Novovia contro il sindaco di Piazza e i monologhi senza contraddittorio in televisione. Il gruppo dei Contras oggi ha spiegato le conseguenze della lettera del Ministero, ripresentando l'alternativa del tram-treno urbano. Bernardo Gulotta. E' ora di finirla, che sindaco va in televisione e fa i monologhi senza contraddittorio. William Starza del comitato Novovia alza il tono della discussione, si dimostra stufo di assistere a monologhi del primo cittadino rispetto al progetto Cabinovia. Proprio ieri di piazza ospite Tele4 aveva affermato quanto segue. Io non sono neanche convinto che perderò il PNR, perché sai c'è stata una battaglia Laura, fatta dai sinistri in maniera incredibile. Io non riesco a capire perché stiamo lavorando per la nostra città. Il sindaco sarà a Roma martedì per discutere col Ministero sulla possibilità di finanziare diversamente la cabinovia o forse anche di poter salvare i fondi PNRR, se con altro progetto o meno lo si scoprirà nei prossimi giorni. Proprio il comitato Novovia a seguito della lettera arrivata da Roma insiste sul progetto alternativo di un tram urbano che anche costi alla mano sarebbe largamente finanziabile. Avevamo fatto un'analisi con esperti del settore che un chilometro di tramvia costava 9 milioni di euro e guardate coi 48 milioni arrivavamo fino a Campo Marse. Quindi non ci sono alibi. Non si voleva fare il tram sulle rive? Bene, potevamo mettere a posto il tram di Opcena rinnovando tutto, infrastrutture e via. Non si è voluto sentire. Oggi sentiamo la loica che va a Roma a chiedere altri soldi. Io non metto in dubbio che visto l'allineamento dei pianeti i soldi non sono. Però i vincoli continuano a sussistere. Allora chi sta prendendo in giro il sindaco. La città è ora di finirla. Non ne possiamo più. Sempre sugli aspetti economici oggi il Comitato ha elencato le spese che il Comune ha sostenuto per le procedure del progetto. Tutti incarichi sotto soglia in modo da andare direttamente a chi si voleva. Secondo, oggi non c'è più il discorso della copertura della Corte dei Conti. Oggi con la lettera del Ministero, questo quanto è stato speso è un debito fuori bilancio. Tornaringa questa sera dopo le 21 con Ferdinando Avarino. Ecco i suoi ospiti Massimo Codarin di Fratelli d'Italia, Maria Luisa Paglia del Partito Democratico, Mirko Martini di Noi Moderati e Alessandra Ricchetti del Movimento 5 Stelle. Riqualificato il centro pastorale di dolina adiacente alla locale chiesa. Grazie all'intervento della Fondazione CR Trieste. Sono stati presentati oggi i lavori di riqualificazione del centro pastorale della parrocchia di Sant'Ulderico Vescovo e Confessore di Sandorligo della Valle. La Fondazione CR Trieste si è fatta carico direttamente dei lavori di riqualificazione grazie alla sottoscrizione di un'apposita convenzione in risposta alla richiesta prevenuta dalla parrocchia nel settembre 2023, su spinta di Monsignor Ettore Malnati. Siamo venuti col Vescovo, il signor Trevisi per il funerale del parroco di Dolina. Abbiamo visto la situazione dell'oratorio. Qui c'era una grotta dove c'erano delle mondizie eccetera e ho detto al Vescovo qui non possiamo lasciare una cosa così. E quindi ho parlato, ma i soldi non c'erano, ho parlato con la fondazione e la fondazione mi ha detto che ben volentieri vediamo se possiamo realizzeremo questo. E così la fondazione ha pensato alla realizzazione completa di questo. La parrocchia disponeva di un immobile su due livelli per complessivi 250 metri quadrati che richiedevano di alcuni importanti lavori di riqualificazione sia sull'impianto di riscaldamento che edili con la messa a nuovo di alcuni spazi e dei servizi igienici. A breve la struttura verrà completata con una dotazione di arredi funzionali alla sua attività. Un investimento importante che ha fatto la fondazione pensando proprio ai giovani alla possibilità di avere anche uno spazio in cui condividere esperienze, giochi, solidarietà e quindi fa parte anche della politica che la fondazione fa per i giovani. Va sottolineata anche un'altra cosa che la fondazione ha assunto direttamente la direzione dei lavori attraverso i suoi funzionari e le aziende per cui una domanda fatta dal centro pastorale nel settembre del 2023 ci trova oggi nel settembre del 2024 ad inaugurare questo spazio che darà sicuramente respiro anche a adulti e giovani della comunità di Sandor Ligodolina. Quinta sconfitta consecutiva per la Triestina che ha perso a Rocco per 2-3 contro il Lumezzano e l'esito del match è costato la panchina all'allenatore dell'Unione Michele Santoni. È una partita chiave decisiva per il futuro del allenatore rosso lavardato Michele Santoni. Per lui c'è solo un possibile obiettivo, vincere il resto per così dire è paesaggio. Aspio Vente, il di testa, il gol! Il gol del numero 3 della formazione ospite, il capitano Eros Pisano che ancora una volta condanna la Triestina alla rimonta. Settimo minuto, ospiti in gol. Vede Vicario, lo serve, tocco per Vozza, poi c'è Vertani e profondità per Vicario, il tiro, gol! Gol della Triestina, 1-1 in gol. Vicario servito in profondità e Triestina che impatta questa partita. Chissà che non sia la svolta della gara e sperabilmente di tutto questo inizio di stagione. Ancora il Lumezzano in controllo, lanciato Ferro sulla destra. Bielefeld prova a chiudere la sua percussione. Occhio perché rischia il fallo, Ferro dentro, il pallone, gol! Raddoppio di Iori, raddoppio di Iori del Lumezzane. 32 minuti di gioco, Triestina 1, Lumezzane 2. Errore difensivo al centro del campo. Pallone che filtra come un coltello nel burro. Iori va al raddoppio. Triestina che in meno dei 33 minuti ha subito due gol in casa. Pallone recuperato da Vozza, vede D'Urso, lo serve in profondità. Vicario fra due uomini, se la giusta, il tiro di Vicario! D'Urso, il cross a spiovere, il testa! Testa di Struna! E' proprio lui il più contestato dalla tifoseria. Pelata, vincente, oltre che zuccata, vincente. Struna, il difesore centrale della Triestina, la impatta così su corner di Cristian D'Urso. D'Urso si gira, cerca lo spazio per il cross, poi va fuori da Correia, il quale controlla, vorrebbe andare il tiro. Correia! Traversa! Tristina che ora perde palla e a centro campo fa un po' di fatica. Il tiro! Incredibile! Incredibile! Terzo gol del Lumezzane! Incredibile! Triestina che subisce il terzo gol nel momento migliore della partita. In una partita che la Triestina era riuscita ad impattare e che ora sembrava essere in grado di vincere. Arriva questo gol totalmente, completamente estemporaneo che ghiaccia il Rocco. Veramente impressionante il tiro di Togordo. D'Urso può recuperare palla, ce la fa, va giù, non c'è fallo per l'arbitro! E a terra, si lamenta, speriamo veramente nulla di serio. No, non ce la fa. Non ce la fa. Viene portato fuori dai sanitari alla spalle. Pallone sui piedi, la profondità, il tocco indietro in direzione di Correia che si aggiusta il pallone. Tiro! Sul fondo, Triestina che ci prova. Ci prova sino all'ultimo respiro. Finisce qui. Quinta sconfitta consecutiva per la Triestina. che perde in casa a Rocco contro il Lumezzane. Squadra ospite che si impone per 3-2. E dopo l'esonero di Mister Santoni con squadra temporaneamente affidata a Geppino Marino è partito il totto allenatori per la panchina dell'Unione. Per il successore si parla di Alberto Villa, Leonardo Menichini, Lamberto Zauli e anche un nome più importante come Domenico Di Carlo, già allenatore di Vicenza, Mantove Chievo. Non è escluso però che vi sia comunque un contatto con Attilio Tesser, ancora sotto contratto con la società Rosso alla Bardata. Passi avanti per portare Robbie Williams in concerto a Triest. O almeno c'è ottimismo nell'area, lo ha spiegato a Telequattro l'assessore comunale Giorgio Rossi. È vero che ci sono già contatti con l'entourage di Robbie Williams? Sì, ci sono contatti però con questi grandi artisti, parliamoci chiaro, senza nulla a togliere a quelli che ci hanno preceduto, a Robbie Williams e a Robbie Williams. Quindi ci sono certamente dei contatti perché è il primo nome che ci è stato proposto, però dobbiamo un attimino testare il polso a queste situazioni che sono situazioni in cui ci deve essere un compromesso di interessi e un avvalo da parte della società alla Bardata perché senza di quella non andiamo da nessuna parte. I presupposti sono in questo momento positivi, però l'ultima parola spetterà alla Giunta, ma soprattutto al Sindaco, insomma il Sindaco che infine si assume insieme a me la responsabilità nel bene e nel male. Quindi la volontà di fare almeno un concerto ogni anno è una volontà che ci sta. Bene, ci fermiamo per qualche minuto, break pubblicitario, poi torniamo con altre notizie e servizi. Torniamo a parlare del progetto di riqualificazione di viale d'annunzio con la ripavimentazione del largo marciapiede nel tratto che va da Piazza Foraggia via Conti. Poi partirà la realizzazione della ciclabile e ieri mattina siamo andati sul posto a sentire anche le reazioni dei residenti e di chi ogni giorno vive quella zona. Cosa pensa del nuovo marciapiede? È bello, libero, però con la ciclabile in mezzo non mi piace. Lei lo lascerai così? Io lo lascerai così. Sì, ha fatto bene il lavoro qua, è bellissimo. Per biciclisti, per pedoni, è bello. Cosa pensa della nuova riconfigurazione del marciapiede? Pessima. Pessima. Anche per lei che ha il garage? Anche per me che ho il garage e anche per me che sono un ciclista. Questa è una soluzione veramente pessima, pericolosa, soprattutto per me che abito qua e vengo fuori dalla porta di casa e mi troverò la bici fra le gambe. Come vedete il marciapiede ora è molto ampio e sgombro. Prima le auto erano parcheggiate a spina di pesce fino a questo punto qui e c'era questo corridoio per camminare. Ora l'area è completamente sgombra, è stata rimessa a posto, poi ovviamente partirà il famoso progetto anche della parte ciclabile. Da una parte ha portato via molti parcheggi, perché comunque mettendoli non più a pettine, ma uno dietro l'altro, logicamente i parcheggi sono di meno. Già i parcheggi 4S mancano. Non sono d'accordo. Non è d'accordo? Ma no, chi passerà di qua? E in più portano via un sacco di parcheggi. Beh, almeno hanno liberato il marciapiede dalle auto, quindi... Il rifacimento del marciapiede è stato completato dalla zona di Piazza Foraggi fino a Largo Mioni, mentre i lavori proseguono da via Conti in poi, come vedete, con gli operai in azione per i sottoservizi prima e poi per la ripavimentazione. Non approvo questa ciclabile, devo essere sincera. Mi dispiace, però non vedo una cosa utile. No, più comodo per andare in giro, ma qua c'è sempre crisi di posteggi. È una bella cosa, innanzitutto l'unico problema è il fatto dei parcheggi che purtroppo sono ridotti e qui è abbastanza difficile trovare parcheggio. Speriamo bene, per noi in primis e poi per la ciclabile. La consigliera comunale del Partito Democratico Pucci pungola la giunta per non aver agito in tempo nel ripristino del muro della scuola Laghi, che nelle ultime settimane ha dimostrato gravi cedimenti. Rivediamo. È peggiorata la situazione del muro della scuola Laghi di strada di fiume, muro che si trova sulla laterale via Cobler, al punto da perdere pietre che si riversano nella stradina. La situazione è nota al comune di Trieste, visto che le segnalazioni risalgono già a novembre dell'anno scorso. Prima una serie di cavalletti, poi alcuni operai venuti sul posto hanno rassicurato genitori e abitue della zona per il rischio di un cedimento del muro che dimostra evidenti segni di spanciatura. A tenere d'occhio da vicino questo problema ci ha pensato la consigliera comunale del Partito Democratico, Rosanna Pucci, che proprio a Sveglia Trieste a luglio aveva ricevuto e inoltrato la problematica al personale del comune. Il muro, come detto, ha subito ulteriori cedimenti, al punto da dover limitare la strada con delle transenne, perché pezzi dello stesso hanno continuato a rappresentare un pericolo. Ecco perché Pucci oggi è tornata la carica, affermando che se si fosse agito per tempo si poteva evitare la limitazione di via Cobler e la chiusura del tratto di strada. È una situazione di pericolo che poteva essere evitata, in quanto già a fine luglio avevo inoltrato agli uffici comunali competenti la segnalazione, la richiesta di ripristino e messa in sicurezza del muro di cinta della scuola Laghi. Una segnalazione che mi era arrivata in diretta a Sveglia Trieste, da parte di una cittadina attiva molto preoccupata. Ed ora, come potete ben vedere, la situazione è precipitata, per cui ho depositato oggi una mozione comunale dove invito il sindaco e gli assessori competenti a ricostruire con urgenza il muro di cinta. La direzione ambiente del Friuli Venezia Giulia ha avviato un'istruttoria per accertare se l'esondazione del rio Menariolo e i conseguenti danni ad abitazioni e colture nella frazione di Vignano a Muggia possa essere stata provocata da materiali di risulta non adeguatamente smaltiti nel cantiere sloveno della Capodistria di Vaccia che si trova a monte del tratto italiano del torrente. Ecco il servizio. Su torrenti come il Menariolo era stata fatta la manutenzione, ma il grosso del flusso ovviamente arriva da oltre confine. Ci sono perplessità su questo? Perché? Io direi tante perplessità. Intanto perché se tutta la fase di emergenza si è concentrata solo su quella parte lì, tanto è vero che se parliamo di via Trieste che di solito si allaga tanto, si è allagata di meno. Il centro storico non si è allagato, l'azzaretto non ha avuto criticità e per cui viene da pensare che la criticità era concentrata su quella parte lì. Il fatto che siano venuti giù enormi quantità di detriti e di grossi tronchi anche tagliati, pensando che sopra a monte c'è la Slovenia con la divaccia Capodistria che è un'opera, quella ferroviaria, ad alto impatto, quindi ci sono stati lavori veramente impattanti e poi alla fine ci si viene da chiedere che cosa è successo a monte. Il sindaco di Muggia, Paolo Polidori, lo aveva detto a chiare lettere alla nostra emittente il 12 settembre. La piena del torrente Menariolo che ha provocato l'evacuazione di otto case a Vignano e una raffica di danni a edifici e aree agricole potrebbe essere stata innescata da materiali come i tronchi d'albero, tagliati e approssimativamente tutti della stessa lunghezza, attribuibili alla costruzione del tratto ferroviario della divaccia Capodistria in Slovenia e finiti nel letto del fiume. Il rio in effetti nasce fra Antignano e Ospo e attraversa proprio l'area limitrofa ai cantiere prima di tuffarsi verso l'Italia. Ecco perché gli uffici regionali della direzione ambiente hanno aperto un'istruttoria per capire le ragioni dell'esondazione di due settimane fa. I tecnici hanno già effettuato due sopralluoghi e preso contatto con il Ministero dell'Infrastruttura sloveno per accertare le eventuali responsabilità. Analoghi controlli verranno effettuati anche in riferimento ad altri corsi d'acqua che nascono nella vicina Repubblica e sfociano nel nostro paese come l'Ospo e Rosandra. In particolare quest'ultimo esondato nella medesima giornata del Menariolo provocando la chiusura temporanea di Via Flavia di Aquilinia. Infine rivediamo anche la premiazione del chiosco più vecchio della riviera di Barco. Era il 1948 quando Manuela Amato e Giuseppe Spadaro fondarono il chiosco di Barcola, oggi noto come chiosco Bar Bivio Inn 1948 nella zona del Bivio di Miramare, punto strategico per la presenza degli statunitensi nelle scuderie del castello di Missimiliano e Carlotta. Un'attività passata poi alla figlia Francesca Spadaro e ad Angelo Rossi che hanno proseguito facendo crescere l'offerta del punto di ristorazione. Arrivando quindi ai giorni nostri con Antonella e Alessandro Rossi che portano avanti quanto incominciato dai nonni, un'impresa familiare insomma che oggi ha ricevuto l'incomio del sindaco di piazza. Nel 1948 mio nonno ha avuto l'ingegno di mettere un punto di ristoro vicino alle scuderie di Miramare dove c'era la base degli alleati. Praticamente dopo la guerra erano gli unici che potevano arrivare fin lì con le jeep e comunque avevano i soldini perché dopo guerra si sa che era... e ha avuto questo ingegno. È stato veramente furbo e bravo. L'omaggio è stato consegnato nel salotto azzurro del municipio anche grazie alla spinta del consigliere comunale Alberto Polacco di Forza Italia e dell'assessore azzurro Michele Babuder. Grazie all'ostinazione, la voglia, l'abnegazione e anche le tradizioni perché rientra anche questo in una tradizione di una famiglia che oggi premiamo un'attività di 76 anni che andrà avanti anche con le nuove generazioni. Alessandro e Antonella in tutti questi anni hanno visto l'evoluzione del lungomare barcolano fra lavori, frequentazioni e tendenze, tutto condito dai numerevoli episodi fra i più stravaganti a quelli più affettuosi. Mi chiedono se ho gelati normali, quanto tempo si arriva dal chiosco al castello e gli rispondo se vai a piedi, se vuole un quarto d'ora, se corri in cinque minuti. Dopo una volta mi è successo che una ragazza ha preso la tabella di gelati per portare l'amica che era gestessa sulla brandina per fargli vedere i gelati, succede tanti anni adotti tanti e dopo comunque anche cose positive, persone educate che veramente danno soddisfazione. Bene è tutto dal Tg Meridiano di Telequattro, grazie per averci seguito, prossimo appuntamento con le notizie questa sera alle 19.30. Buon pomeriggio.